Cinema, teatro, concerti, avvenimenti, locali, ristoranti, serate divertenti Per sapere dove andare, per mangiare, per giocare, incontrarsi, divertirsi, fare quello che ti pare Se vuoi essere informato sulle cose che puoi fare, se vuoi essere aggiornato sulle cose da vedere Per essere al corrente di tutto lo scenario, informati su tutto, c'è tutto su Sipario Sipario, in distribuzione gratuita, ogni 15 giorni ad Avezzano, L'Aquila, Pescara e Chieti Sipario, il dilettevole più utile che c'è